L'universo ci permette di ricevere queste informazioni, non per stimolare la nostra curiosità sugli accadimenti futuri, ma per avvertirci. Tutto si fermerà sulla terra, la luce non giungerà più, vi sarà un buio come non c'è mai stato. Stupore, disperazione e paura si impadroniranno del cuore di coloro che non hanno voluto illuminare la propria vita attraverso pensieri ed azioni di bene. L'ecosistema è irrimediabilmente compromesso, tutto il sistema vitale del pianeta è in una situazione irreversibile. Quindi è necessaria, dice Gesù a Padre Pio, un'opera profonda che può venire solo dal cielo. E cosa può arrivare dal cielo? Non vanno accolte le profezie con paura, ma con coscienza, con seria responsabilità. Ognuno sarà nel posto in cui ha deciso di essere. Ognuno sarà nel posto in cui ha deciso di essere.